Cioè, mi sfidano, perdono e si arrabbiano con me, ma scusami Niente, io sono convinto che ci siano oggetti nascosti più, ma non è così Deve dimenticare il mio dolore, ti prego, lotta con me Questa è una donna seduta e abbandonata dal marito che sta giù sotto a giocare con i Pokémon Vanessa Pokéfan È una bella pacioccosa, guarda